Allora ragazzi, a cosa avete pensato per il prossimo Grest Estivo 2016? Io avevo pensato di costruire una piramide egizia in cui fare entrare i ragazzi. Io avevo pensato a far esplodere le balene che troviamo nei canali di irrigazione. Che belle idee del cavolo, e tu Bob, a cosa avevi pensato? Io avevo pensato ad allestire uno spazio computer. Così potremmo far creare ai ragazzi fumetti e cartone animate con semplici programmi trovabili in rete. Ma sai che non è una cattiva idea? Occorrerà innanzitutto climatizzare l'aula didattica. Poi sarà necessario predisporre quattro computer, infine installare un sicuro programma antivirus con parental control. Infine ricercare un buon programma utilizzabile solo su internet così da non appesantire i computer. Non penso manchi altro, vero? Che idea geniale! Realizziamola! Ok! Diamoci da fare! Ecco il programma giusto per noi! GoAnimate! Con questo programma i ragazzi si divertiranno sicuramente!